La strattona l'afferra per i capelli e cerca di trascinarla in auto. E' quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì ad Agropoli, vittima una studentezza sedicenne che stava camminando in località Marrota, poco lontano dall'ex presidio ospedaliero. Una vicenda inquietante e allarmante sulla quale ora indagano i carabinieri della locale compagnia guidata dal capitano Giulio Presutti. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per far piena luce sul caso e risalire all'identità di quello che è stato ribattezzato il maniaco. A denunciare il tutto è la mamma della ragazza, comprensibilmente sotto shock per quanto accaduto. Tutto è avvenuto intorno alle 17 di giovedì scorso, racconta la donna. Mia figlia stava passeggiando quando all'improvviso si è avvicinato un'auto di colore nero molto lunga dalla quale è sceso un giovane dall'età apparente tra i 25 e i 30 anni, che si è prima avvicinato a lei e poi l'ha afferrata per i capelli nel tentativo di trascinarla nella macchina. A quel punto è intervenuto un passante che stava portando a spasso il suo cane. L'uomo, minacciando di chiamare i carabinieri, ha messo in fuga il maniaco. In base alla testimonianza fornita dalla ragazza, anche i militari dell'arma, il giovane aggressore sarebbe italiano, con capelli neri, di corporatura atletica e alto. Purtroppo non è la prima volta che accade, conclude preoccupata la madre della vittima. All'inizio dell'anno scolastico si è già verificato un altro episodio. In quell'occasione mia figlia fu afferrata per un braccio e strattonata con forza. Scatta dunque l'allarme ad Agropoli, dove ci si augura che il giovane possa essere presto individuato.